Ho tante altre cose di cui vorrei parlare. Quindi, perché prima non finiamo questa partita? Io userò di nuovo il dado bianco. E tu il rosso, giusto? Sì. È il sistema della martingala. Ogni volta che perde, raddoppia la sua scommessa. Quindi non importa quante volte perde, gli basta una sola vittoria per rifarsi. Allora, sei pronta? È una strategia poco usata perché si rischia di perdere molti soldi. Se il suo obiettivo è quello di distruggerci, ha senz'altro scelto la strategia migliore.